Il creato per te, la rubrica religiosa che ci accompagna alla lettura e al commento del Vangelo della Domenica. Da luoghi suggestivi, a contatto con la natura, Fra Antonello Abbate e Fra Emanuele Cosentini ci aiutano a comprendere con la semplicità dei francescani del cantico la parola del Vangelo. Ogni sabato alle 15.15 è in replica la domenica alle 9.45 e alle 15. Grazie a tutti.